Buongiorno, non rispettiamo il quarto d'ora accademico, l'inizio dei lavori era previsto per le 15, perché siccome al Senato alle 4 iniziano a lavorare, abbiamo degli ospiti e degli amici e facciamo parlare prima che se ne vadano. Buongiorno a tutti, oggi lo vedete dal titolo che abbiamo dato, parliamo di mercato immobiliare proposte per il rilancio del Paese. Perché parliamo di mercato immobiliare? Perché il mercato immobiliare, diciamo, il tema è un po' sparito dai radar della politica, della finanziaria e così via. Sapete che il mercato immobiliare cubava il 20% del PIL nel 2011, oggi la quota di PIL si è molto ridotta, il 73% delle famiglie italiane sono proprietari di casa, quindi è un tema oltre che economico anche sociale. E quindi oggi vogliamo, nei tre panel che faremo, vogliamo parlare di questo tema, affrontarlo, e soprattutto nello spirito che lega Confedilizia, FIAI, Conf Associazioni Immobiliari, ANCE, non tanto di portare le critiche, ma analisi e proposta. Perché questo è un Paese che ha bisogno di proposte, ha bisogno di unità e ha bisogno di risolvere i problemi. Quindi con piacere do la parola al Senatore Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità e soprattutto scusate se ho modificato un pochettino i tempi della vostra attività. Per me era importante essere qui e ho ricevuto l'invito da parte del Presidente Gian Battista Balcarini, attraverso una conoscenza personale di un vostro collega Renato Troiani, quindi per me era un obbligo oltre che un piacere essere qui. Approfittando di questa breve pausa dei lavori d'aula ho fatto una scappata come Cenerendola e vi chiedo scusa che come Cenerendola dovrò uscire sperando di non perdere la scarpetta. Ma al di là di questo aspetto io vi ringrazio e vi do l'augurio di un buon lavoro perché il tema che voi andate ad affrontare oggi è un tema fondamentale come riferito poc'anzi dalla persona che mi ha presentato e che ringrazio perché veramente il mercato immobiliare, l'attività immobiliare edilizia in genere è un'attività fondamentale per l'economia italiana e voi da agenti immobiliari professionali sicuramente svolgete un compito importantissimo ed è per questo che era un dovere essere qui e dare comunque un contributo ed un supporto alla vostra azione, al vostro lavoro cosa che è già avvenuta in questa prima piccola esperienza, perlomeno da parte mia attraverso i miei colleghi della 14esima Commissione al Senato che ha portato alla modifica e all'approvazione di un emendamento che finalmente ha eliminato quello che era un rischio paventato da molti ed era quello di questo conflitto di interessi attraverso gli istituti bancari e finanziari quindi ciascuno fa il proprio lavoro e nessuno meglio di voi che siete operatori professionali può svolgere questa funzione, quindi era giusto tutelare il vostro impegno e il vostro lavoro quindi detto questo, un altro elemento importante sarà l'osservatorio parlamentare del mercato immobiliare al quale cercheremo di collaborare, di dare il massimo supporto una disponibilità che ho dato ai vostri rappresentanti e che cercheremo di sviluppare al meglio perché chiaramente tutto questo passa per l'edilizia in generale passa veramente un volano dell'economia quella che insomma, di tutte le attività che sono messa collegate quella dei risparmi degli acquirenti, dei vostri clienti quindi insomma svolgere un lavoro in maniera professionale è fondamentale e so che voi lo svolgerete ed è per questo che io vi confermo la mia disponibilità e oltre questo vi chiedo scusa ma non mi dirungo oltre perché i tempi di ritorno al Senato mi obbligano a uscire in questo momento per cui grazie dell'invito, sono a disposizione mi ha fatto molto piacere conoscervi la Presidenza già era in contatto con me e comunque sono a disposizione buon lavoro e grazie a voi per il vostro lavoro Grazie Senatore, ci conforta anche il fatto di questa apertura nei confronti dell'osservatorio parlamentare che vedrà quindi la partecipazione anche del Movimento 5 Stelle e questo è un punto che poi tratteremo successivamente abbiamo una legge di stabilità in corso abbiamo attività che si concluderanno appunto il 31-12 ma ci interessava oggi parlare anche un attimo di alcuni aspetti fiscali che sono allo studio e ragionare insieme per essere pronti a gennaio diciamo su quelle che sono le varie modifiche normative chiaro che i temi della manovra ancora non si conoscono però alcuni aspetti sono ormai delineati quindi cedo volentieri la parola all'amica di sempre di FIAIP e rappresentante del notariato al notaio Maria Luisa Ceni prego Grazie ringrazio dell'invito per me è sempre un piacere oltre che un privilegio partecipare a degli eventi FIAIP dagli eventi tecnici formativi a questi eventi che hanno un respiro certamente più ampio allora la legge di stabilità di quest'anno sotto il profilo fiscale non prevede per l'immobiliare sotto il profilo delle imposte indirette in particolare grandi novità avevamo temuto per un po' per le detrazioni nella maggior misura per le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie per gli efficientamenti energetici nella maggior misura del 50% e del 65% perché sappiamo che l'articolo 16 bis del test unico delle imposte sui redditi lo prevede già nella minor misura del 36% ma quello pare, pare, uso pare perché sapete che ancora entrano e escono emendamenti diciamo ci resteranno per l'anno 2019 quindi da un punto di vista fiscale direi che allora sappiamo che il legislatore quando vuole intervenire su un settore rilanciare un settore ha tre leve da tirare la leva fiscale che è quella sempre più efficace la leva finanziaria che è quello di dire ti do dei finanziamenti dei contributi che è efficace ma meno di quella fiscale e poi dopo la leva civilistica cioè intervenire su determinati istituti che hanno dimostrato delle criticità e questa può essere efficace o non efficace direi che quest'anno ha usato più che altro questa leva quella di intervenire su istituti conosciuti che effettivamente avevano creato e creano delle criticità secondo il legislatore ma anche secondo la pratica nel settore immobiliare quindi io d'accordo con Paolo parlerei di questi due profili cioè del decreto legislativo che è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri in prima lettura non si capisce bene esattamente cosa sia questa procedura no ma vuol dire che si riservano qualche aggiustamento l'8 di novembre scorso quindi ce lo troveremo in vigore immagino gennaio, febbraio più o meno, ancora in gasetto ufficiale un provvedimento che la legge prevede che entri in vigore entro 30 giorni la pubblicazione in gasetto ufficiale ed è la norma le norme che modificano il decreto legislativo 122 cioè le tutele apprestate dall'ordinamento per gli acquirenti di immobili in corso di costruzione e questo direi che è il provvedimento normativo che incide in maniera maggiore sulla nostra attività e poi c'è quest'altro emendamento che intresce dalla finanziaria ultimamente era uscito dalla finanziaria e ha trovato diciamo il suo terreno normativo nel decreto legge nel decreto legge sulle semplificazioni quello che è stato esaminato doveva essere esaminato ieri l'altro sera dalla Presidenza dal Consiglio dei Ministri sembra che sia stato esaminato ieri mattina sulla modifica degli immobili di provenienza donativa sapete che quando abbiamo degli immobili di provenienza donativa qualche problemino ce l'abbiamo tutti parto dal primo se Paolo è d'accordo parto dal primo cioè le modifiche che sono state sono state qui possiamo dire sono state apportate alla legge sulla tutela degli acquirenti di immobili in corso di costruzione voi sapete che la legge quadro che prevedeva questa modifica quindi prevedeva l'emanazione di questi decreti legislativi è la legge 155 del 2017 cioè quella che riforma le procedure fallimentari a un certo punto l'articolo 12 di questa legge ci dice una cosa che è importante leggerla da parte nostra come operatori perché ci dobbiamo fare delle domande ci dobbiamo fare delle domande e dare delle risposte quando il legislatore ci dice queste cose il legislatore ci dice al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione nonché dell'obbligo di rilascio della polis assicurativa indennitaria ci dobbiamo fare delle domande perché qui il legislatore ci fa capire quale responsabilità abbiano gli operatori nel regolare il mercato immobiliare evidentemente il legislatore nell'osservazione che fa dell'applicazione pratica delle leggi dal 2005 a oggi ha capito che questa legge è stata inadempiuta in parte non dico in tutto in parte forse è stata inadempiuta perché se ci arriva addosso una cosa così con un'apertura così qualcosa vorrà ben dire allora che cosa succede? succede che ci cala addosso con questa modifica normativa che importa delle variazioni importanti a questo decreto legislativo 122 allora innanzitutto vi dico dove trovate queste modifiche normative dovete andare in questo decreto legislativo che reca il nuovo codice del fallimento andate agli articoli dal 384 al 387 e trovate queste modifiche e che cosa ci dice il legislatore? che cosa dobbiamo fare adesso che non dovevamo fare prima? prima cosa i preliminari di immobili in corso di costruzione potranno essere fatti solo dal notaio per atto pubblico e per scrittura privata autenticata quindi il legislatore ha deciso che siccome questi obblighi che aveva imposto con una legge del 2005 non sono stati adeguatamente adempiuti ha previsto che cosa? ha fatto una cosa che il legislatore fa spesso ha previsto una forma solenne con un obbligo di controllo non si è fermato lì però il legislatore se si fosse fermato lì sarebbe stato troppo facile ha previsto una serie di misure sostanziali aggiuntive che il notaio stesso deve controllare prima cosa noi sapevamo che prima la fideiussione era rilasciata solamente a garanzia del trasferimento della proprietà voi sapete che questa fideiussione veniva data esclusivamente su contratti preparatori al trasferimento successivo dell'immobile cioè io ti anticipo delle somme non riesco a comprare questo bene perché non è ancora pronto questo bene in base all'accordo fra le parti ti anticipo delle somme tu mi dai la fideiussione questo adesso il legislatore dice per cui nel momento in cui io stipulavo il contratto definitivo di compravendita restituivo la fideiussione è finito là adesso la fideiussione è anche a garanzia del rilascio e della consegna al momento della vendita della polizza assicurativa indennitaria decennale quindi garantisce due cose garantisce il fatto che io nel momento in cui ti ho anticipato delle somme mi vedrò poi trasferito il bene che tu mi devi trasferire e che tu che mi devi trasferire quel bene per legge mi devi dare la polizza assicurativa indennitaria decennale e me la dai lo svincolo della fideiussione che cosa è legato al fatto che nel contratto definitivo di compravendita venga consegnata questa polizza assicurativa indennitaria decennale e il notaio ne faccia menzione nell'atto il notaio nell'atto deve scrivere che è stata consegnata questa polizza e che questa polizza è conforme a un modello ministeriale approvato la legge prevede a presidio di questo sistema un'altra nullità noi sapevamo che il contratto preliminare dove non veniva consegnata fideiussione idonea era nullo era una di quelle nullità di protezione che sono tanto ben conosciute dal codice del consumo cioè era una di quelle nullità che era azionabile soltanto dalla parte diciamo debole cioè dall'acquirente questo nel preliminare se io non consegnavo la fideiussione la stessa cosa il legislatore la fa modificando in questa parte la legge nel definitivo non mi consegni la postuma decennale il contratto è nullo il notaio deve menzionare nel contratto che mi hai consegnato la pollizza assicurativa e che è conforme al modello per avere la fideiussione restituita altrimenti non ce l'avrò mai la fideiussione guardate che qui il legislatore ha usato una tecnica una tecnica furbissima perché che cosa ha fatto ha coinvolto l'interesse della parte venditrice se ci pensate bene se non do la pollizza e non c'è scritto nel contratto il contratto è nullo però vabbè il contratto è nullo mi potrebbe interessare fino a un certo punto intanto ho un cassato eh ma non ti svincolano più la fideiussione se non c'è scritto là non ti svincolano più la fideiussione perché per legge la fideiussione può essere svincolata solamente sulla base dei presupposti che noi abbiamo detto quindi capite che è un meccanismo che diciamo eh si completa si completa con una serie di eh adempimenti una serie di menzioni attenzione le menzioni in questa legge non sono loro che rendono nulla l'atto è la mancata consegna della fideiussione o della postuma che rende nullo che rende invalido il contratto l'articolo 6 che sapete che è quello che dice quale contenuto deve avere del contratto e che quello che ci dice che adesso il contratto preliminare può essere fatto solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ci dice anche che dobbiamo nel contratto preliminare menzionare la fideiussione e che è conforme al modello questa legge prevede anche perché anche qui sapete che di fideiussioni ce n'erano di tutti i tipi la giurisprudenza è impazzita e forse sia anche un po' stufata di andare dietro a queste cose perché abbiamo sentenze della Corte di Cassazione che ha detto no ma la fideiussione ha termine ma va bene ma non va bene ma dipende il termine cioè anche qui come devo dire è una responsabilità degli operatori perché ci voleva poco a dire dall'inizio guardate che queste fideiussioni che scadano un termine fisso non vanno bene in base a questa legge non vanno bene perché la fideiussione deve cessare la sua efficacia solo nel momento in cui trasferisco la proprietà adesso non è neanche più così trasferisco la proprietà consegno la pollizza scrivo nell'atto che ho consegnato la pollizza che la pollizza è conforme e consegno alla banca o l'assicurazione che mi ha dato la fideiussione l'atto notarile da cui risultano queste cose come è intervenuto il legislatore qui ha detto guardate che la fideiussione dovrà essere eredata sulla base di un modello standard e la polizza assicurativa uguale non ha proprio parlato di modello standard ma una cosa del genere teniamo conto di una cosa ne teniamo conto per i finanziamenti nel momento in cui io faccio un atto pubblico una scrittura privata autenticata il notaio è obbligato a trascriverla la trascrizione è obbligatoria quindi la trascrizione si somma alla garanzia fideiussoria quindi trascrivo il preliminare ai sensi dell'articolo 2645 bis perché me lo dice il 2671 del codice civile bisogna stare attenti che non si incepi il meccanismo della prestazione del credito perché perché siccome quest'articolo prevedeva quel famoso privilegio a favore del promissario acquirente voi sapete che finché non si è pronunziata la Cassazione a sezioni unite le banche con un preliminare trascritto anche dopo non ne volevano sapere finalmente la corte di Cassazione ha detto guardate un privilegio trascrizionale potevano capirlo anche senza la Cassazione per cui l'ipoteca fatta prima è buona cioè il preliminare trascritto dopo non va a pregiudicare i diritti della banca per l'ipoteca trascritta prima e questo ce l'abbiamo chiarito devo dire che anche qui le banche ancora oggi un po' di resistenza la fanno adesso lo dovranno capire bene perché il costruttore o non vende più niente o altrimenti nel momento che vende che avrà la fideiussione le banche si devono rassegnare avere queste trascrizioni di preliminari attenzione successivi alla loro ipoteca perché se noi facciamo dei preliminari trascritti prima della concessione dell'ipoteca quindi il costruttore dovrà andare a chiedere il finanziamento prima di vendere il primo immobile perché altrimenti dopo no che la banca il finanziamento con una garanzia ipotecaria è iscritta dopo il preliminare effettivamente trova delle difficoltà ma trova delle difficoltà perché a questo punto la trascrizione del preliminare antecedente in base al regolamento in base alla normativa al funzionamento complessivo delle trascrizioni prevale sull'ipoteca so che ho pochissimo tempo quindi accenno brevissimamente alle donazioni però ti volevo fermare proprio su questo tema volevo coinvolgere l'UPD che di di banche se ne intende la 122 è quella vecchia diciamo quella che va riformata non ha funzionato semplicemente perché il costruttore chiedeva il finanziamento per il terreno poi chiedeva il finanziamento per gli stati di avanzamento lavori e poi doveva rilasciare le fidevissioni le fidevissioni ammontavano alla somma alla somma del venduto quindi compro il terreno 500.000 euro costruisco per un milione di euro la banca mi finanzia per un milione e mezzo lasciando perdere l'equity naturalmente facciamo i conti un po' così il totale delle vendite assomma a 2 milioni quindi ho un budget di guadagno diciamo di 500.000 euro ma la banca con la legge doveva coprire costi per 1.500 più 2 quindi della 122 non se ne è fatta niente oggi le banche hanno la possibilità di finanziare cambiato qualcosa oppure i costruttori dovranno munirsi di tanto denaro che forse non hanno per far funzionare la norma allora il problema è il rischio e quindi il costo del denaro oggi le banche non finanziano l'edilizia proprio perché c'è un rischio di invenduto molto forte c'è una eccessiva c'è stato un eccessivo ricorso al costruito al nuovo tanto che c'è ancora molto invenduto per cui il rischio che si assume la banca nel finanziare un imprenditore edile è molto alto per cui oggi noi riusciamo a finanziare le imprese edili comunque gli imprenditori edili coloro che costruiscono gli immobiliaristi chiamiamoli e no con questo nome soltanto se possono dimostrare di aver già prevenduto il 70 l'80% degli immobili quindi sostanzialmente è quasi è quasi nullo il denaro riversato dalle banche in questo settore benissimo questo ci conforta non tanto presidente le faccio la domanda che le fanno tutti gli associati che facevano a me che faranno tutti ma cosa fa la FIAIP per questa roba qui le piace la domanda ma buon pomeriggio a tutti innanzitutto ma noi stiamo predisponendo un emendamento su questo con l'ufficio legislativo perché chiaramente il fatto di dover dare una fiduzione che ricomprenda non solo la caparra barra conto ma anche tutti i pagamenti intermedi condiziona la libera contrattazione tra le parti perché chiaramente se c'è una difficoltà da parte degli istituti di credito di rilasciarla questa fiduzione per tutto questo ammontare è chiaro che va a condizionare quello che è appunto una libertà di poter come la legge salvaguarda di poter tra i privati tra soggetti che vogliono compravendere un immobile è chiaro che va a condizionarlo quindi su queste basi stiamo predisponendo un testo che prevede appunto che in realtà la fiduzione vada diciamo progressivamente richiesta e quindi erogata concessa alla parte acquirente questo è quello che ci impegniamo a fare stiamo facendo con l'aiuto di confedilizia fa proprio il moderatore oggi non me l'aspettavo no senza aiuto di confedilizia fanno chi ha il fatto tutto da sola però su questo tema noi ci siamo interessati dall'inizio volevo segnalare questo visto che ho la parola dai primi anni in effetti anche noi abbiamo appurato che la normativa è partita anzi è partita piano ma poi è andata ancora più piano forse noi avevamo fatto un servizio mi ricordo di informazioni per tentare di dare suggerimenti ai malcapitati perché spesso chiamavano non quelli che stavano questo è il problema per acquistare no? ma quelli che avevano acquistato avevano poi avuto diciamo problemi di vario tipo ma abbiamo visto che il meccanismo in effetti non funzionava speriamo che con le nuove regole che sono previste in questo decreto legislativo ci sarà qualcosa qualche miglioramento passiamo alle donazioni che sono un altro punto dolente su questo punto posso dire una cosa che mi ero taciuta ma bisogna che lo adesso l'escursione della fideusione della fideusione ha un altro rischio questa norma prevede che la fideusione possa essere scossa sulla base di una dichiarazione del notario se il giorno dell'atto non è arrivata un apposto ma decennale conforme al modello quindi questa fideusione che garantisce il trasferimento della proprietà ma anche la consegna all'acquirente di una idonea assicurazione postuma decennale conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale dice che io posso escutere la fideusione dalla data dell'attestazione che mi ha fatto il notaio che dice non è arrivata per il giorno della stipula una postuma decennale idonea e il compratore dice bene allora io non voglio comprare escuto teniamo conto che c'è questo elemento che è un elemento nuovissimo probabilmente andava andava detto mi ero tacciuta appositamente per pudore guardate invece allora vi dico subito che questo emendamento entra esce fa le ultime notizie che mi è arrivato un sms prima di iniziare questo convegno sembra che il consiglio dei ministri di ieri mattina che l'ha esaminata l'abbia spunta momentaneamente per rimetterla nella finanziaria insomma adesso io vi dico che cosa abbiamo fra le mani adesso perché più di questo allora guardate come inizia questa legge questa legge al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa sapete che avere un bene di provenienza donativa un po' un problema è ma è un problema perché perché abbiamo ve la faccio breve ma uno ordinamento per cui io dono in questo momento siccome quando morirò uno sa come nasce ma non sa come ecco al momento della morte si vanno a fare i conti con tutti quelli che hanno dei diritti di legittima se salta fuori che con delle donazioni io ho leso dei diritti di legittima i legittimari possono fare l'azione di riduzione cioè dire adesso facciamo tutti i conti e vediamo se io ho avuto la mia quota di legittima dopo l'azione di riduzione possono dire sai cosa ti dico caro donatario e caro acquirente dal donatario che siccome i miei diritti di legittima sono lesi adesso tu mi ridai indietro l'immobile che io ti ho donato e me lo dai indietro libero dalle ipoteche che io ci ho messo sopra e beh insomma questo adesso ve l'ho semplificata al massimo scusatemi qui il libro secondo del codice civile è complicatissimo tant'è che io tremo sempre quando ci vado ci va sopra chiunque sia con le leggi nuove che con le interpretazioni perché al libro secondo bisognerebbe avvicinarci sì in ginocchio però quindi ho semplificata al massimo che cosa fa questa legge lascia ferma tutta la possibilità di fare questi conteggi però tramuta questa azione di restituzione cioè la possibilità di avere questo bene libero da ipoteche in un diritto di credito cioè sia le ipoteche che ci vanno a mettere sopra al bene donato i donatari sia quelle che ci vanno a mettere sopra gli acquirenti dei donatari non possono essere messe in dubbio dai legittimari quindi le ipoteche restano buone francamente se il bene è rimasto nelle mani del donatario l'erede può riprendersi indietro il bene pazienza che cosa me ne importa se ha avuto un finanziamento poi più di tanto fastidio non mi dà se è andato al terzo subacquirente l'erede non si può più prendere indietro il bene dal terzo subacquirente che avevamo un po' paura di questo però un problemino ci rimane sempre in questa legge nuova se rimane così come la vediamo che il terzo subacquirente non si vedrà mai cavato il bene e la banca non si vedrà mai mettere in discussione l'ipoteca che ha dato per finanziare l'acquirente dal donatario quindi questo è il risultato della stabilità però questa legge lascia aperto la possibilità del donatario di andare a chiedere dei soldi all'acquirente un diritto di credito per cui via aperta le assicurazioni da questo punto di vista però con un effetto di stabilizzazione che effettivamente c'è quindi questo sarebbe diciamo brevissimamente il il panorama che viene diciamo verrebbe ad aprirsi dopo questa riforma se entra in vigore noi davamo un po' per scontato di averla in vigore l'uno di gennaio sembra che invece non sia così anche perché voi capite che se era nella finanziaria era un conto ma l'hanno inserito in un decreto legge cioè il fatto che potesse starci dentro un decreto legge stava nel capo sulle disposizioni urgenti in materia di giustizia probabilmente un qualche problema nell'iter parlamentare lo ha creato io adesso diciamo mi taccio poi se ci sono delle domande sono a disposizione di ringrazio c'è in questa legge di stabilità un grande dubbio abbiamo richiesto all'epoca anche durante la campagna elettorale l'introduzione della cedolare secca per gli usi diversi per i negozi e così via cosa ci dice il presidente di confedilizia ce la faremo oppure no un pezzettino c'è intanto e prima non c'era mai stato quindi questo bisogna dirlo naturalmente per per trasparenza però è un pezzettino molto piccolo e quindi stiamo tutti chiedendo di fare una cosa un po' più convinta e meno timida nel senso che è stato previsto che per i contratti stipulati nell'anno prossimo nel corso dell'anno prossimo quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2019 solo per i contratti stipulati in quell'anno non a partire da quell'anno di locazione di locali C1 quindi di locali negozi e botteghe come recita la indicazione del catastro fino a 600 metri quadri si possa applicare una cedolare secca del 21% per un periodo perché anche questo tipo di norma può aprire dei problemi per un periodo che può ritenersi di 6 anni o di 6 anni più 6 nel senso per come è scritta la norma io credo si possa dire salutiamo intanto l'onorevole Polidori che si possa dire che scrivere dal primo gennaio voglia dire che quel contratto che inizia il primo gennaio il 3 gennaio il 4 ottobre insomma abbia la cedolare per tutti i 6 anni ma anche gli ulteriori 6 che sono di rinnovo automatico cos'è che manca manca certamente ma non bisogna illudersi su questo un'applicazione generalizzata a tutti i contratti di locazione esistenti per lo meno diciamo di negozi ma mancherebbe allora se vogliamo essere più estesi per tutti gli altri immobili non abitativi che era insomma la richiesta che si faceva ma questa è un'ipotesi irrealizzabile anche solo tutta la locazione esistente di tipo C1 cioè i negozi è un obiettivo irrealizzabile quindi è bene che ce lo si dica chiaramente perché il costo formale poi è formale perché ci sarebbe grande recupero il costo stimato dal Ministero dell'Economia è di circa un miliardo se pensiamo che in questa legge di bilancio alle riduzioni fiscali guardo le foto mentre parliamo che la seguita è che la sta seguendo con grande attenzione la seguita alla Camera alle riduzioni fiscali peraltro si dice compensate da altri aumenti ma comunque si dedica a qualche centinaio di milioni è chiaro che sarebbe impensabile pensare scusate il bisticcio ad una cedolare per tutti i locali commerciali esistenti i contratti esistenti quindi quello che si può ottenere sul quale si sta spingendo è di prevedere almeno che nell'anno 2019 sia trasformato in un dall'anno 2019 anche per dare certezza un po' alle persone sia ai contribuenti sia ai proprietari locatori sia ai commercianti perché quello che stiamo spiegando al governo è che se l'intento come è perché hanno capito diciamo quello che gli abbiamo spiegato per anni se l'intento è quello di rimettere sul mercato immobili sfitti e apro parentesi poche ore fa Confesercenti ha detto che sono da 600 mila da 600 mila unità passate a 650 mila unità negli ultimi quattro anni quindi la situazione di una gravità inaudita se si vuole rimettere sul mercato quegli immobili è chiaro che non si può pensare che dal primo gennaio tornino sul mercato e si facciano dei contratti per fare dei contratti bisogna trovare un inquilino bisogna fare la trattativa e poi bisogna sistemare l'immobile intanto sistemarlo e renderlo dignitoso perché in molti casi cade a pezzi perché questa è la realtà e poi bisogna adattarlo anche all'attività economica commerciale artigianale che viene svolta quindi non è minimamente pensabile che prima di metà fine anno qualche contratto venga fatto quindi lo stesso obiettivo del governo che è quello di fare una sperimentazione non verrebbe attuato quindi al minimo minimo si dovrebbe fare una sperimentazione un po' più ampia cioè di 2-3 anni ma meglio ancora dire dal 2019 quindi è quello che stiamo chiedendo poi ci sono altre modifiche forse sarebbero necessarie come il chiarire per esempio che a questi tipi di contratti non si applichi la norma che si applica per l'abitativo di blocco dell'aggiornamento del canone perché parliamo di contratti di 12 anni di fatto con un meccanismo anche di indennità di avviamento commerciale che blocca spesso i rinnovi e quindi prevedere anche il divieto di aggiornamento del canone insomma impone imporrebbe in molti casi dei canoni che restano immodificabili per non so 24 48 anni non lo so tutta la durata della vita di una persona quindi anche quello stiamo chiedendo meno probabile è che si intervenga sulla metratura anche perché insomma in effetti i 600 metri quadri sono una dimensione abbastanza ampia che copre molto di quello che si vuole andare sul quale si vuole intervenire poi ci sarebbe molto altro da fare però i locali commerciali quelli più in difficoltà sono in effetti quelli più piccoli di dimensioni resta fermo e chiudo subito che ci sarebbero necessità per quelli C3 quelli magazzini quelli autonomamente diciamo non legati agli immobili C1 perché in questo caso sono se sono pertinenze sono insieme agli altri quindi c'è la cedolare ci sono i camannoni ci sono gli uffici ci sono altri locali in crisi ma bisogna andare piano perché altrimenti ci si illude e basta toccheremo poi i punti della fiscalità nel secondo panel di questa giornata il Senato pochi giorni fa sapete ha modificato la nostra legge professionale a 3989 nello specifico l'articolo l'articolo 5 vi vorrei far vedere i testi così riusciamo a farci spiegare al Presidente Baccarini cosa cos'era e cos'è cos'è successo e come cambierà la nostra professione anche per fare un pochino di chiarezza sul tema allora il testo originale della legge 3989 quando è stato varato sostanzialmente metteva delle incompatibilità sull'impiego pubblico privato il privato a part time e su tutte le aree diciamo di commercio del settore quindi l'agente immobiliare non poteva commerciare non poteva fare determinate cose cose che avrebbero leso la terzietà propria dell'agente immobiliare la terzietà che è quella che ci consente diciamo di essere parti di non essere parte ma di essere tutelanti successivamente nel 2001 questo articolo 5 venne cambiato venne cambiato molto probabilmente le norme vanno contestualizzate all'epoca all'epoca in cui vengono varate sostanzialmente cercando una sorta di esclusiva e quindi gli agenti immobiliari sono gli unici che possono vendere possono essere coloro i quali intermediano però nell'articolo nel comma B veniva messa l'incompatibilità con qualsiasi attività imprenditoriale professionale esclusa quella di mediazione dal 2001 gli agenti immobiliari erano sono erano e sono ancora tuttora l'unica categoria nemmeno i giudici della Corte Costituzionale fanno solo i giudici della Corte Costituzionale che non potevano avere nessun tipo di altra attività che cosa succede l'Europa da anni dal 2006 da Bersani in poi sostanzialmente c'è stato il tentativo di liberalizzare completamente la professione dell'agente immobiliare e di renderla diciamo libera a tutti senza nessun vincolo mi ricordo la Spagna otto anni fa dieci anni fa quando venne completamente liberalizzata e aumentarono le truffe del 30-40% la Spagna tornò indietro creando una scuola di formazione per gli agenti immobiliari e riproteggendo la categoria degli agenti immobiliari che ricordo sono la prima parte di protezione nel percorso che porta all'acquisto immobiliare e poi così succede che arriviamo alla proposta del Ministero dello Sviluppo Economico che si è ritrovato a dover fronteggiare il Presidente Baccarini insieme a tutta la FIAIP i dirigenti le altre associazioni ma un testo abbastanza pesante quindi cedo la parola a Gian Battista che ci spiegherà bene il testo proposto cos'è accaduto e quali sono poi successivamente riflessi sulla nostra categoria prego come diceva bene Righi l'Europa cosa ci dice dovete alleggerire le maglie delle vostre incompatibilità quindi avete un regime in tema di incompatibilità eccessivamente rigido e quindi ci richiama diciamo più di una volta fa una raccomandazione e addirittura ci mette uno stadio di messa in mora siamo quindi c'è una procedura di infrazione che appunto incombe sul nostro paese su questo tema quindi il 6 settembre quindi parliamo di un paio di mesi fa il Consiglio dei Ministri approva diciamo un documento un articolato che è proposto ovviamente dal Mise che è quello che vedete nella slide cioè sostanzialmente le ultime quattro righe cioè quindi che l'esercizio dell'attività nostra è incompatibile con tutte le attività imprenditoriali di produzione vendita rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al settore merceologico per il quale si eserce l'attività di mediazione ovviamente questa è riferita a tutte le attività di mediazione hanno interesse ovviamente quello del settore nostro che è il settore immobiliare sostanzialmente cosa ci dice questo articolato che tutti tutti dipendenti pubblici e privati professionisti di qualunque genere potrebbero in base a questo articolato potranno fare il nostro lavoro ovviamente con i requisiti previsti dalla legge e con il corso e l'esame ovviamente da sostenere in più però cosa succede non solo apre un po' a tutto e a tutti ma impedisce a noi con quella parola e servizi quindi beni e servizi impedisce a noi impedirebbe ecco a noi di svolgere tutti di erogare tutti quei servizi strumentali e funzionali alla nostra attività prioritaria e principale che è l'attività di mediazione immobiliare questo è l'articolato che esce il 6 settembre poi cosa accade accade che il 4 ottobre entra in commissione questo articolato la commissione la 14esima quella del senato degli affari europei e noi veniamo auditi il 23 ottobre dico noi non solo FIAP ma FIMA e ANAMA anche c'era anche AIR per la verità e sostanzialmente cosa accade che FIAP presenta un suo emendamento FIMA presenta un suo emendamento ANAMA presenta un suo emendamento e noi lo esponiamo non so chi di voi ha avuto modo e tempo di ascoltare visto che poi è stata resa anche pubblicata nel sito l'audizione di 5-10 minuti a testa noi esponiamo il nostro articolato succede che possiamo passare alla slide successiva perché sostanzialmente accade che la commissione lavora e poi il 26 novembre noi ovviamente con i contatti nostri cerchiamo di far sì che l'emendamento proposto fosse e sia ovviamente ricepito successivamente all'audizione del 23 ottobre accade che noi cioè FIAP FIMA ma quindi con i presidenti ci riuniamo e facciamo un emendamento congiunto un emendamento che prevedeva tra le altre non è quello che vedete qui ma è un emendamento che è simile a questo con delle diciamo differenze in più c'era la formazione obbligatoria continua che è quello che noi chiediamo da anni succede arrivando alla sintesi che il 26 novembre viene approvato votato favorevolmente in commissione al senato questo articolato e il 5 dicembre viene votato favorevolmente in aula al senato questo articolato per chiudere poi entriamo nel contenuto adesso passerà in commissione alla camera e poi all'aula alla camera quindi l'iter non è concluso siamo diciamo a metà dell'iter è chiaro che con una lavorazione alla base molto importante che speriamo sia portata a termine in questa direzione i contenuti allora lo possiamo leggere e scorrere brevemente insieme la nostra attività diventerebbe incompatibile con gli esercizi di attività imprenditoriali quindi di produzione vendita rappresentanza o promozione dei beni non c'è più la parola servizi che è una nostra richiesta afferente al medesimo settore merceologico per il quale si eserce l'attività di mediazione ci fermiamo un attimo qui in questa prima parte viene salvaguardata la terzietà contro tutti coloro gli imprenditori immobiliari che vendono promuovono rappresentano o producono immobili e togliendo la parola servizi invece viene data a noi l'opportunità quindi ecco l'ampliamento delle compatibilità che chiediamo oramai da anni di poter svolgere tutti erogare tutti quei servizi che dicevo prima funzionale la nostra attività per esempio tutti quei servizi in forma imprenditoriale di gestione delle locazioni turistiche abbiamo molti colleghi che fanno turistico e non riescono a gestire in maniera imprenditoriale anche servizi strumentali all'attività principale non è solo la biancheria e la pulizia molti colleghi hanno anche delle strutture ricettive soprattutto nell'area centro-sud ecco ci sarà la possibilità di farlo come per esempio poter costituire delle società di valutatori sapete che le banche danno a queste società fanno fare perizie che purtroppo spesso e volentieri sono perizie fatti da tecnici che non conoscono il mercato come noi e quindi spesso ci fanno saltare anche delle compravendite e dei mutui poi ci sarebbe la possibilità di poter gestire per esempio capita che uno erediti un'azienda agricola quindi di poter gestire in forma imprenditoriale anche delle imprese delle aziende che non siano sostanzialmente la propria attività diciamo di mediazione intermediazione immobiliare o per esempio ci sarebbe la possibilità di fare ovviamente nel rispetto della 141 del 2010 i mediatori consulenti del credito chiaro che è un lavoro importante noi abbiamo anche una società dedicata quindi ci vuole professionalizzazione professionalità anche in questo ma ci sarebbe eventualmente anche questa opportunità e anche fare gli amministratori di condominio qui qualcuno ha detto o scritto non ricordo ma c'è scritto rappresentanza l'amministratore di condominio configura per una parte della giurisprudenza il mandato con rappresentanza corretto ma mandato con rappresentanza l'amministratore rappresenta le persone i condomini qui c'è scritto l'incompatibilità con la rappresentanza di beni cioè di immobili non potrà fare l'agente immobiliare rappresentante di calcestruzzo di infissi delle finestre piuttosto che rappresentanti di società immobiliare di imprese di costruzione è una cosa diversa passando alla seconda parte nonché con l'attività quindi incompatibile e quindi questa è l'aggiunta che non c'era nell'articolato precedente quindi rispetto a prima tolto la parola servizi e aggiunta questa parte che leggiamo adesso quindi nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato anche qua qualcuno ha detto ma ente pubblico o privato allora i dipendenti di una ditta individuale o di una società di persona potranno fare gli agenti immobiliari no perché l'ente è un soggetto è una persona sì giuridica sono le persone giuridiche ma sono anche quei soggetti dotati di personalità giuridica e le società di persone le ditte individuali quando aprono la partita IVA diventano soggetti dotati di personalità giuridica quindi tutti i dipendenti pubblici privati non potranno fare il nostro lavoro e l'abbiamo richiesto per dei motivi reali concreti e c'è la specifica successiva addirittura siamo riusciti per ora a ottenere che sia incompatibile con l'attività di dipendenti di istituto bancario finanziario assicurativo qui c'è il disegno che diceva prima Righi partito nel 2006 dove alcune banche hanno deciso di essere proprietari e di fare il nostro lavoro di fare agenzie immobiliare col patto marciano sapete che se uno non paga un certo numero di rate la banca può saltando le procedure giudiziarie esecutive riprendersi in possesso l'immobile e venderselo ecco la parte finale era questo rivenderselo con i dipendenti in esubero che hanno all'interno e faticano a fargli cambiare il contratto anche qui ho letto delle imperfezioni per non dire un'altra parola perché qualcuno ha detto ma in realtà i dipendenti bancari potrebbero farli no perché quando qui c'è la dicitura escluse le imprese di mediazione escluse le imprese di mediazione qualcuno ha detto allora le banche che hanno agenzie immobiliari i dipendenti di quelle agenzie immobiliari possono fare gli agenti immobiliari ma questo certo che sì nel senso che noi l'abbiamo messo escluse le imprese di mediazione perché i nostri dipendenti è chiaro che devono essere compatibili i nostri delle nostre agenzie immobiliari devono essere compatibili con l'attività di agenti immobiliari ma noi diciamo una cosa diversa che appunto i dipendenti bancari che le banche vogliono licenziare non possono fare gli agenti immobiliari perché sapete che cambiare un contratto bancario è difficilissimo è uno dei contratti più tutelanti più belli tra virgolette che un dipendente possa sognare hanno la tredicesima la quattordicesima la quindicesima la sedicesima la diciassima hanno un sacco di la cassa hanno una serie di garanzie di tutele invece con questa dicitura devono cambiare il contratto fargli fare il corso ovviamente l'esame e fargli aprire la partita IVA come agenti immobiliari che è tutto un altro percorso o andiamo all'ultima parte l'incompatibilità e questo adesso lo dico io forse non sta bene sa quasi del miracoloso nel senso che il tema delle professioni intellettuali quando si era provato anche qualche anno fa a cambiarla perché questa è una richiesta che parte tanti anni fa di aprire le compatibilità pareva che questa fosse una cosa appunto non invece ad oggi è nell'articolato cioè saranno incompatibili tutte quelle professioni intellettuali e poi qui secondo me c'è la parte politicamente più attenta perché riprende l'articolato della prima parte cioè dell'attività imprenditoriale cioè coloro che sono esercitano in un ambito afferente al settore merceologico per cui si esercita l'attività cioè al settore immobiliare e comunque in conflitto di interessi sostanzialmente qua si sono aperte una miriade anche qua ma allora gli architetti ingegneri e geometri non possono fare l'agente immobiliare perché il settore è immobiliare ma qualcuno ha iniziato a dire sì ma gli avvocati commercialisti sì allora anche qua non è così automatico anzi perché gli avvocati che lavorano e operano nell'ambito immobiliare tipo che sono specializzati in contrattualistiche immobiliari non potranno fare gli agenti immobiliari i commercialisti che curano cessioni di aziende che poi sono quelli che spesso tramite consulenze fiscali in realtà fanno delle mediazioni immobiliari non potranno fare gli agenti immobiliari quindi in realtà in poche parole tutti quei professionisti che orbitano in Romagna si dice che paciugano nel settore immobiliare non potranno fare gli agenti immobiliari ma c'è un motivo perché sarebbero in conflitto di interesse questo è strutturalmente è stato studiato in questi termini questo articolato è esattamente l'articolato presentato dalla nostra federazione è esattamente l'articolato presentato dalla nostra federazione con un paio di dettagli di specifica e speriamo auspichiamo che l'iter che l'iter vada in questa direzione si conclude in questa direzione perché avremmo ma con l'aiuto di tutte e anche assieme alla congiunta la consulta ribaltato quello che è un articolato molto penalizzante per noi ricordate la slide precedente in un articolato che amplierebbe non solo le opportunità di fatturato per le nostre agenzie che ovviamente è importante ma amplierebbe le opportunità di dare tutti quei servizi che oggi i cittadini i clienti la comunità pretendono da noi nell'era di quell'agenzia che ormai ci diciamo da tanti anni dell'agenzia multidisciplinare grazie ottimo lavoro e il notariato cosa dice di questa cosa non il notariato ma il notaio Luisa Maria Luisa Cerni perché il notariato è un'altra cosa sono anni che si cerca di fare un accordo col notariato di far comprendere al notariato che è la figura dell'agente immobiliare e del notaio sono ambedue con funzioni totalmente diverse fondamentali in quel circuito di sicurezza che deve seguire come professionisti in cui dobbiamo seguire il cliente in questa avventura italiana tutta italiana dell'acquisto della casa a quando o come dovrebbe essere strutturato un accordo secondo te tra agenti immobiliari e notari allora Paolo Righis sa già come io risponderò perché lui lo sa già dico quello che ho sempre detto negli anni che sono stati in consiglio nazionale dal 2010 al 2016 quindi io credo e questo vale in ogni ambito che la professionalizzazione sia importantissima quindi è importantissimo che ognuno curi il proprio settore con delle professionalità specifiche che evidentemente ha perché poi come devo dire i percorsi formativi profili formativi sono importantissimi quindi io credo che un notaio oltre che non potrebbe ma adesso banalizzo non riuscirebbe a fare l'agente immobiliare come un avvocato come un commercialista un agente immobiliare fa lavoro diverso rispetto a quello di un notaio perché evidentemente altrimenti dovrebbe seguire lo stesso percorso io questo l'ho sempre detto anche riguardo ad altre situazioni quando c'erano delle leggi di le liberalizzazioni ho sempre detto ma è facilissimo se altri professionisti vogliono fare il nostro mestiere fanno il nostro percorso fanno il nostro concorso fanno quello che facciamo noi io non ho mai voluto fare altre professioni senza sostenerne il percorso formativo secondo me questa è la base di tutto vale anche vale anche per il rapporto stretto che c'è fra agenti immobiliari e notai perché sono i principali regolatori del mercato immobiliare guardate che per il nostro ordinamento noi al notariato abbiamo fatto ovviamente perché il nostro mestiere il nostro core business moltissime verifiche moltissimi studi poi il rapporto del doing business lo dice benissimo il mercato immobiliare in Italia con le sicurezze che ha è un elemento competitivo per il paese altissimo ed è la sicurezza del mercato immobiliare che sviluppa questa competitività cioè il sistema dei registri immobiliari che ci dà una sicurezza e quindi e quindi un'affidabilità diversa rispetto ad altri paesi è un aspetto competitivo importante noi dobbiamo essere convinti di questo ognuno sta nel suo ambito professionalizza al massimo il suo ambito dovremmo avere capito da quello che ci ha detto il legislatore negli anni in maniera non immotivata che la sicurezza del sistema delle contrattazioni immobiliari è importante per cui questo lo dico alle agenzie immobiliari ma lo dico per noi stessi l'importante non è fare i contratti a tutti i costi magari lasciando aperti degli spazi di mancata tutela per il compratore o per il venditore non ha importanza un notaio non guarda la posizione del compratore o la posizione del venditore un notaio guarda il contratto il mestiere del notaio è guardare il contratto indipendenza anche per gli agenti immobiliari vuol dire questa cosa qua non ce lo dimentichiamo mai noi e voi vuol dire guardare l'affare per l'agente immobiliare guardare il contratto per il notaio io devo guardare dove è sbilanciato il venditore dove è sbilanciato il compratore dobbiamo dismettere la mentalità di dire ma questa cosa qui anche se non la diciamo è meglio ma se manca l'abitabilità anche se non lo diciamo è meglio no il mercato immobiliare si basa sulla trasparenza sull'affidabilità sulla conoscenza delle situazioni quindi questo è un percorso di cultura professionale che dobbiamo percorrere dobbiamo percorrere ogni percorso di evoluzione questo in particolare è un percorso di cultura ma teniamo in mente che ognuno deve fare il suo mestiere ognuno bisogna che lo faccia in questo ambito perché questo vuol dire guardare avanti la competitività del settore immobiliare vuol dire dare sicurezza al settore immobiliare vuol dire dargli affidabilità io sono nelle mani del mediatore e sono in buone mani io sono nelle mani del notaio e sono in buone mani questo diciamo questo è il risultato a cui dobbiamo se noi andremo d'accordo sulla base di come devo dire di una comprensione del percorso di questo genere secondo me andremo dove vogliamo e gli interlocutori politici ci capiranno ci capiranno gli interlocutori politici interni ed europei perché parleremo un linguaggio di tutela di diritti e di indipendenza vera perché vedi Paolo è facile parlare di imparzialità per tutti queste sono cose che vanno praticate praticate io dentro al notariato lo dicevo sempre signori non ci confondiamo mai c'è una differenza fra la teoria e la pratica che dobbiamo sempre tenere presente le cose vanno praticate se noi le praticheremo secondo me non ci sbaglieremo perché vorrà dire guardare avanti io penso così tu lo sai che ho sempre capito così poi io che cosa devo dire siccome le cose le dico come vanno dette delle volte non piacciono grazie Maria Luisa allora il rapporto tra credito e agenti immobiliari è stato interrotto nel 2010 allora quando fu varata la 141 gli agenti immobiliari segnalavano mutui alle banche noi avevamo i clienti le banche erano contente perché la segnalazione che proviene dal mondo immobiliare è per il 95% una segnalazione di qualità quindi i default dei mutui sono molto molto rari infatti nel 2008 si è verificato un altro fenomeno che era quello poi delle cartolarizzazioni e dell'abbassamento dei livelli di qualità dell'euro agato ma questa era una scelta degli istituti del mondo economico e finanziario quindi nel 2010 si fa questa norma e nascono le società di mediazione creditizia ma gli agenti immobiliari non potevano non potevano e non possono più segnalare i mutui che cosa accade che tre mesi fa quattro mesi fa è stata varata una norma sempre sulla direttiva europea che ritorna alla segnalazione fa ritornare alla segnalazione strumentale gli agenti immobiliari norma che ancora non è stata attuata che c'è perché siamo in attesa di un regolamento questo naturalmente è un bel segnale che ci dà l'Europa è un bel segnale che riceve il mondo dell'immobiliare che è strettamente legato soprattutto per l'acquisto delle proprietà private all'erogazione dei mutui è un bel segnale anche perché ricongiunge quel settore naturalmente quel settore del credito col settore immobiliare e quindi aspettiamo regolamento ma qui c'è qualcosa di più diceva il presidente Baccarini con l'eliminazione dell'articolo 5 e l'eliminazione dell'incompatibilità si aprono tante nuove strade perché nella 141 non vi è nessuna incompatibilità tutti possono fare i consulenti del credito quindi Samuele Lupidi amministratore di Ausilia Finance come accolgono le società di mediazione creditizia questo nuovo articolato e soprattutto è vero che gli agenti immobiliari così lo rimarchiamo è vero che gli agenti immobiliari potranno fare i consulenti del credito? Allora se l'articolato poi sarà votato così anche alla Camera senza nessuna modifica sicuramente sì quindi l'agente immobiliare potrà essere anche consulente del credito in che forma come imprenditore aprendo quindi una partita IVA è una ditta individuale perché non si può è un'attività una professione che non può essere svolta in forma societaria quindi agenti immobiliari che ha la sua SRL la sua SAS la sua società di persone di capitali continua a svolgere l'attività di agenti immobiliari con quella società ma se volesse diventare anche collaboratore di una società di mediazione creditizia dovrà aprire una partita IVA se vuole può iscriversi in Camera di Commercio come imprenditore come ditta individuale oppure la legge gli consente di svolgere questa ulteriore attività come lavoratore autonomo che significa che può aprire la partita IVA iscriversi alla gestione separata dell'Inps senza iscrizione come ditta individuale alla Camera di Commercio questo dipende dal tipo di fiscalità che vuole applicare o può applicare a questa ulteriore attività le società le società di mediazione creditizia come accolgono questa questa novità devo dire che Auxilia Finance la accoglie molto bene perché perché è già pronta per gestire eventualmente la questa possibilità per gli agenti immobiliari noi riteniamo che questa sia la modalità giusta di utilizzare il credito nel settore immobiliare la filiera si era troncata era stata rotta la filiera naturale direi della finanziarizzazione del mercato immobiliare ecco in questo modo si può si può ricominciare a finanziare il mondo immobiliare nel giusto modo è chiaro che come diceva prima il notaio noi crediamo assoluto crediamo molto lo direbbe e lo dice la legge però davvero noi crediamo molto sulla professionalizzazione quindi l'agente immobiliare se volesse diventare anche collaboratore di una società di menzione e creditizia dovrà svolgere l'attività preparatoria all'esame o prova valutativa dell'OAM dovrà seguire i corsi di formazione che annualmente devono essere tenuti con 30 ore l'anno se vuole anche diventare un iscritto IVAS per proporre le assicurazioni attinenti al mondo immobiliare altre 30 ore col sostegno assolutamente della società di mediazione e creditizia che ha già questi presidi che utilizza per gli altri collaboratori ma insomma c'è la possibilità di fare un gran bel lavoro ripeto noi siamo pronti quindi potrebbe davvero ritornare ad essere un'attività fatta con serietà perché ci sono stati momenti in cui tutti facevano tutto però oggi si potrebbe tornare a finanziare quel mercato invece con le nuove regole con le nuove professionalità e quindi questo vuol dire finanziare il mercato del credito mantenendo comunque l'obiettivo di una trasparenza di una eticità e anche di una se volete sostenibilità del credito nel mondo immobiliare sicuramente anche quello che è l'attività più attiva diciamo alla nostra che è quella dell'amministratore di condominio noi abbiamo circa 3.500 associati quindi più o meno 6.200 uffici di amministratori condominali che sono associati ai FIAIP e che sfruttano questo buco diciamo normativo fino ad ora che era quello di dire sì come attività principale faccio l'agente immobiliare ma poi come attività non prevalente faccio anche l'amministratore di condominio e qui viene accessare un pochino questa che era questa incompatibilità che naturalmente ecco questo forse è il lato dove si incontreranno più resistenze perché qualcuno ha già cominciato a dire no ma attenzione l'amministratore di condominio può essere parificato un'attività intellettuale e tutte queste varie cose cose facilmente smontabili ma non è questo il tema il tema sicuramente è quello della possibilità per un professionista di avere più opportunità qui dobbiamo parlare di opportunità perché la nostra competizione non è più tra le categorie la nostra competizione noi operatori noi partite IVA noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo e manteniamo in grande parte questo paese insieme a tanti altri oggi competiamo con i grandi big del web perché noi ci scontriamo qui in basso ci scontriamo se tu puoi fare l'amministratore se tu puoi fare questo se tu puoi fare quest'altro poi ti arriva Amazon ti fa il servizio condominiale ti fa il servizio di agenzia ti fa questo e noi tutti che bello Amazon è arrivato sono arrivati ma per il semplice motivo che vedete la grande differenza che ancora non si è risolta e molto probabilmente qui la politica avrà bisogno di aggiornare il passo è che Amazon può essere dappertutto può avere la sede dove vuole io vorrò ridere quando fra 5 o 6 anni qualche di una di queste grandi compagnie invece di avere sede alle Cayman o in un paese scudato metterà la sua sede su un satellite governato da un algoritmo e vorrò vedere chi li va a tassare e questo guardate che sembra una stupidata ma potrà avvenire molto 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 velocemente allora il tema qual è qui non si tratta di e capisco che c'è una parte della categoria che dice io sono l'agente immobiliare e io voglio fare solo l'agente immobiliare e uno può fare solo l'agente immobiliare ma sicuramente se è vero come è vero che i prossimi 10-15 anni del mercato si baseranno sui servizi la gente cerca servizi ognuno di noi quando va in un posto vuole risolvere i propri problemi vuole farlo in fretta e vuole un interlocutore unico il giro attuale vista la normativa del 2001 era che un cliente andasse dall'agenzia immobiliare e poi dovesse andare in banca in banca casomai non c'è nessuno perché le filiali ormai sono sguardite e quindi due mesi per trovare i documenti nel frattempo che va in banca perché questa è la descrizione del percorso che deve fare oggi un cliente nel frattempo che va in banca quello della banca gli dice no guarda ma abbiamo anche noi gli immobili da vendere e se vuoi ti facciamo un mutuo anche più basso e quindi no ferma tutto allora guardiamo questo immobile e poi no però sulla normativa e su tutto l'aspetto delle varie documentazioni devi andare dal geometra cioè voi capite bene che il cliente fino ad oggi è entrato nell'agenzia immobiliare perché fuori aveva visto l'appartamento che gli piaceva quando gli agenti immobiliari fino ad oggi hanno detto i miei clienti un'agenzia immobiliare non ha clienti un'agenzia immobiliare richiama per i propri immobili parlo in termini generali qui si tratta di cambiare il paradigma l'agenzia immobiliare nei prossimi 10-15-20 anni deve diventare deve essere scelta come dicevamo prima per la professionalità per i servizi per i multi servizi perché io ti risolvo un problema la gente oggi vuole vedere risolti i propri problemi e allora lì entra la professionalità quindi io voglio entrare in un'agenzia immobiliare voglio avere l'informazione per un mutuo poi deciderò io dove andare ma voglio l'informazione voglio sapere se posso affrontare quella cosa oppure no e lo voglio fare attraverso un professionista se voglio se ho un problema di amministrazione se ho un problema di qualsiasi natura lo dobbiamo risolvere dentro l'agenzia allora quello è il punto di tutela da cui poi nasce tutto il rapporto che dovrà seguire col notariato e con le altre professioni allora qui non si tratta di pensare era meglio prima o era meglio dopo semplicemente dobbiamo renderci conto che questi ultimi dieci anni di economia ci consegnano una realtà diversa che forse noi non abbiamo ancora capito in questi dieci anni c'è stata una rivoluzione ed è ancora in corso la rivoluzione come tutte le rivoluzioni fa morti e feriti il problema è che la differenza degli operatori tra gli operatori è quelli che capiscono il cambiamento lo cavalcano e quelli che invece pensano che finita la crisi tutto tornerà come prima beh signori devo dirvi che non sarà così non sarà così nella politica non sarà così nell'economia è il nostro dovere far funzionare meglio le cose ma non possiamo fermare un mondo che prosegue va avanti e che muta continuamente quindi io l'impegno che chiedo a tutti i dirigenti di alle varie associazioni è quello di comprendere che soprattutto nei periodi di crisi bisogna sfruttare le opportunità e bisogna cavalcarle senza idee particolari poi nella seconda parte parleremo anche di questa Volkestein perché le liberalizzazioni le liberalizzazioni che sono state portate avanti vi ricordate che il governo Bersani hanno una derivazione europea ma dobbiamo anche immaginare che anche qui i tempi sono cambiati vi ricordate ancora no? la riforma del commercio ad esempio dei negozi però in un momento in cui tutto cresceva prima del 2008 e allora la crescita sembrava infinita e allora liberalizziamo tutto ma se oggi i negozianti che purtroppo chiudono se oggi avessero una qualche tutela come avevano una volta perché con le tutele anche che c'erano nella limitazione dei negozi quello che era la vendita della licenza rappresentava rappresentava la pensione di chi aveva lavorato 20, 30, 40 anni abbiamo liberalizzato tutti tutto oggi un negozio che ha un proprietario di un negozio che lavora per 40, 50 anni si trova molto probabilmente con dei debiti e cercando di vendere il proprio negozio di smantellarlo con delle spese quindi è vero che il progresso va accompagnato ma lì è il ruolo della politica e quello anche di tutelare determinate classi sociali permettendogli di seguire piano piano l'innovazione e i mutamenti sociali e un'ultima domanda su questo tema al Presidente di Confedilizia che comunque è strettamente legato alla proprietà immobiliare e quindi all'amministrazione di condominio è ancora prematuro quindi non ti chiedo una posizione ufficiale di Confedilizia su questa possibilità che anche gli agenti immobiliari facciano gli amministratori di condominio ma sicuramente FIAP e Confedilizia sono legate da anni cercherete di accompagnare questo percorso farete un tavolo di lavoro cercherete di lavorare congiuntamente anche su questo tema Sì assolutamente come nella attuale situazione abbiamo lavorato affinché anche qualche interpretazione non troppo condivisibile non si affermasse eccessivamente perché sulla situazione attuale ci sarebbe da dire ma non apriamo il discorso per il futuro adesso vediamo se sarà approvata questa norma così vedremo di accompagnarla come dicevi tu nel rafforzare quelle attività che peraltro abbiamo già portato avanti in passato in varie forme cioè la collaborazione tra FIAP e Confedilizia sia direttamente sia anche attraverso la nostra associazione di amministratori di condominio Gesticond ci sono tanti modi per collaborare io credo che poi come tu dicevi sono opportunità l'agente immobiliare che voglia fare solo l'agente immobiliare potrà continuare a farlo quello che vuole affiancare anche un'altra attività come ad esempio questa potrà farlo queste singole attività vanno viste tutte una per una dai fruitori clienti chiamiamoli come vogliamo così come noi diciamo che l'amministratore di condominio spesso è bravo anche quando è l'amministratore di casa sua che ne dica qualche altra associazione che invece dice che devono essere solo e assolutamente di un certo tipo con una certa struttura con un certo sistema di professionalità come dicono loro ma in realtà insomma per limitare un po' le possibilità agli altri così si può anche da agente immobiliare svolgere quell'attività secondo me in maniera proficua se ci si concentra su quell'attività nel momento in cui la si fa in modo efficace perché come l'amministratore di cento condomini può essere bravo ma può essere anche uno che ne trascura un po' chi fa l'agente immobiliare magari ne amministra due e quei due magari li cura molto più di quanto non farebbe qualcun altro io credo che questa sia la realtà vedere caso per caso e offrire opportunità grazie presidente grazie a tutti